Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Gabriela Chieffo, ex protagonista del noto programma Temptation Island, ha recentemente condiviso la sua straordinaria trasformazione fisica insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara durante un'intervista a Verissimo. La coppia ha affrontato e superato tradimenti e incomprensioni, ora sta pianificando il loro futuro insieme, compreso il matrimonio. La loro storia d'amore è stata seguita da vicino dai fan di Uomini e Donne, culminando con la proposta di matrimonio di Giuseppe nello studio di Canale 5. Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Gabriela ha fatto una sorprendente rivelazione riguardo alla sua trasformazione fisica. Ha raccontato che, dopo aver scoperto che il suo fidanzato era iscritto a un sito di incontri con lo pseudonimo American Boy, ha vissuto un periodo molto difficile. Afferma di essersi sentita male sin da gennaio e di aver perso incredibili 45 chili nel corso dell'anno. L'affermazione di Gabriela ha lasciato Silvia Toffanin e il pubblico a bocca aperta, con molti utenti increduli riguardo a una perdita di peso così significativa in così poco tempo. Di fronte alle critiche, Gabriela ha deciso di condividere su Instagram una serie di foto che documentano il suo prima e dopo il dimagrimento. Con queste immagini, ha voluto dimostrare la veridicità delle sue parole e rispondere a chi metteva in dubbio la sua storia. Nel post su Instagram, Gabriela ha incluso un messaggio diretto a coloro che avevano sempre sostenuto che fosse stata magra. Queste foto testimoniano il suo percorso di dimagrimento e rappresentano una dichiarazione di autenticità. Molti dei suoi follower hanno commentato le immagini con messaggi di sostegno e comprensione, incoraggiandola a non giustificare più nulla della sua vita. Gabriela ha anche condiviso ulteriori pensieri sulla sua trasformazione tramite le storie di Instagram, sottolineando che solo lei e la sua famiglia conoscono i dettagli del suo percorso. Ha ammesso che la perdita di peso ha comportato anche alcuni problemi e ha chiuso la discussione, decidendo di non parlarne ulteriormente. In conclusione, la sorprendente trasformazione di Gabriela Chieffo ha catturato l'attenzione del pubblico e delle piattaforme social. La sua decisione di condividere le immagini del prima e dopo è stata una risposta forte alle critiche e un modo per dimostrare la sua autenticità. La storia di Gabriela continua a ispirare e a sollevare dibattiti tra i suoi sostenitori.